L'European Dive Show è la più importante manifestazione espositiva europea interamente dedicata al mondo della subacquea, che quest'anno festeggia il suo 25esimo anniversario. All'interno dell'EU di 2017 per la prima volta c'è il nuovo spazio Dive Doctor, un progetto in collaborazione con la Simsi, società italiana medicina subacquea iperbarica, in cui si parlerà di benessere, stili di vita e salute del subacqueo.